Allora, ragazzi, questo è il pacco di Frank Mazzoni che mi ha dato a me per essere arrivato terzo nella classifica delle scommesse e ho vinto il little pacco, allora, questa maglia di salvataggio, poi questo occhiale Bex, poi questo bracciale Bex, molto bello, poi questa conchiglia e poi questa pallina di golf. Bella raga, questo è il video che volevo fare grazie a Frank Mazzoni che mi ha inviato questo pacco che vedete qua a mia sinistra, adesso vi faccio vedere cosa mi ha arrivato. Allora, mi sono arrivato, prima di tutto, queste cuffie qua, molto carine, poi ho qui il spinner che darò a mio fratello, poi un bracciale, poi questa telpa, eccola, molto carina, per scrittare la massa, un cappellino, questa che tipo lo usavo come portapenne, molto semplice carina, poi questa, la canotta del salvataggio, perché Frank, come si sa, è un bagnino, poi una conchiglia, poi degli stickers che darò a mio fratello, poi l'ho spettato un altro che qua, ecco, c'è un orologio, e i suoi occhiali, aspettate che vi faccio vedere bene, questi qui. Bene ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un bel mi piace, ciao! E' benvenuto ragazzi, sono Mirko Ballone, oggi siamo qua con un nuovo video, con lo spaccatamento che Frank mi ha mandato, mi ha mandato il Big Pack vinto con le scommette su Ultima Team, ora lo andiamo a aprire e scopriremo che cosa mi ha mandato il nostro Frank Marzoni, ok, Ok, lo stiamo aprendo, vediamo che cosa trova dentro, ok, posizione, lo apriamo. Ok, ok, andiamo qua qui dentro, andiamo qua qui dentro. Ok, l'abbiamo aperto, allora, una zebra da Juventus, che io tifo Juve, poi un cappello per l'inverno, stanno in montagna, bella Frank, poi una felpa, che ho scritto massa, bella, ok, poi cosa c'è ancora? Un gioco, stai calmo, non è andato, poi una maglietta, vediamo che maglietta è, dove Frank mazzoni, dove Frank mazzoni fa il bagnino, ho scritto sabotaggio, bellissima Frank, ecco faccio vedere, davanti e dietro, ok, poi, poi dentro c'è, allora, un portachiavi con la scarpa, e poi c'è una conchiglia, poi, vediamo cosa c'è, allora, allora, poi vediamo cosa c'è, un mouse, un mouse, poi, allora, guardate, una tastiera, guardate, una tastiera, poi, una pallina, poi, e un kiwui, sembra, giusto? Un kiwui, puma, ok, e poi abbiamo, l'ultima, abbiamo, una, una maglietta, ecco qua, ok, ok, a qua, io ringrazio Frank e Mazzoni per avermi mandato il big pack, e, che dire, grazie bella, grazie Frank, bella, alla prossima, ciao ragazzi! Ciao!